maresciallo mi devo assentare per qualche giorno no guagliarù vi voglio bene non mi chiedete permessi ve ne ho dati troppo e non ve ne posso raggiungere maresciallo ma io mi devo assentare eh maresciallo eh maresciallo maresciallo guagliarù siete stati anche proposti non ve ne posso raggiungere ma facete appiccicare con i colleghi ma mi serve è importante non ve lo posso dare mi mettete in difficoltà non ve lo posso dare maresciallo è per un motivo grave di famiglia ah 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 se è un motivo di famiglia è fatto cambio che è successo? mia socia mentre stonneva i panni la guinda piana è caduta giù ed è volata in giro o vede ha fatto il suo rimbalzo